però sono sempre importanti ecco l'avete vista bellissima anche ma sta facendo la voglia ma guardate che guardate che flashing ars che ci sono guardate ora ne farà un questo sono i bati che sento io sono particolarmente contento perché diciamo oltre a essere con Borissi soprattutto con i turi gageggi che sta facendo è lontano 1989 e poi nel 1990 eravamo in questi posti eravamo morfologicamente diversi perché io avevo un sacco di capelli turi non aveva la panza manco io questo dimostra una continuità della nostra storia e soprattutto anche della nostra amicizia bellissimo molto piacere la nostra passione per lei in quegli anni io venivo mi accompagnava turi oggi ho avuto il piacere che l'abbiamo portato mai quassù eccolo 25 anni dopo siamo di nuovo ho visto il flash si come no l'ho filmato pure spero occhio no no buoni buoni certo se si chiude ce ne andiamo ma al momento ancora beh facciamo un po' di silenzio così facciamo un po' di video si un po' di suoni io non lo metto per te io scappo ma che spettacolo scusate eh